La giunta provinciale ha approvato lo spostamento di un tratto lungo circa mezzo chilometro della strada statale all'altezza del lago di Carezza. Verrà messo in sicurezza il pezzo a rischio smottamento, verrà valorizzata un'area particolarmente sensibile che si trova all'ingresso delle Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco. L'investimento è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Sappiamo che tantissime persone ogni anno si recono a questa bellezza naturale che è il lago di Carezza, però c'è un neo davvero preoccupante, c'è la strada. C'è uno che va lì a vedere questa bellezza, che conosce magari dalla cartolina che gli è stato mandato, poi deve urlare al proprio compagno quando vuole parlare di questa bellezza, perché si sentono solo i rumori dei moto e delle macchine che passano. Dopo il successo dello scorso anno, la giunta provinciale ha deciso di rinnovare i contributi per le micro e piccole imprese altotesine, stanziati nuovamente 6 milioni di euro, modificando però i criteri e il tema guida. Questo bando riguarda l'artigianato, l'industria, servizi e commercio. Ne avevamo già fatto uno, analogo, l'anno scorso, nel 2017. Quest'anno però abbiamo modificato leggermente i criteri e questo lo abbiamo condiviso con i rappresentanti delle categorie economiche interessate. Abbiamo deciso assieme, e questo voglio davvero sottolinearlo, di focalizzare quest'anno di più questo bando sul tema dell'impresa 4.0, cioè la digitalizzazione. Ricerca e sviluppo in questo settore. Da ormai sette anni la Siria è martoriata dalla guerra anche nelle zone del nord del paese dove la provincia di Bolzano ha avviato da tempo 10 progetti di cooperazione allo sviluppo. La giunta ha stanziato 40 mila euro sotto forma di alimenti medicinali, vestiti e generi di prima necessità in collaborazione con la mezza luna rossa Kurdistan. Grazie. Grazie.